Stabbi carissimi in cittutubi, sono Francesco e bentornati nel subito di camera mia e benvenuti sempre in una volta che venite a visitarla. Quest'oggi parliamo di Universo DC Rinascita, 22esimo numero di Justice League, 3,95€ e 72 pagine al suo interno, 3 storie tratte dalle serie Justice League, Cyborg e Earth 2 Society. Partiamo subito dalla nostra tipografica, artigrafica e tucillo, qui non ha dato il peggio di sé ma insieme a tutti gli altri spillati che ho letto in questo periodo, quindi Flash 26, Batman 26 e Batman il Cavaliero Oscuro 11 con il preludio di Metal, diciamo che alla fine del quarto spillato ero abbastanza stressato dal continuare a vedere righe, righine, macchie, macchioline in quale hai il giro per lo spillato. Niente di eccessivo preso singolarmente, però diciamo che era fastidioso, anche qualche pagine lievemente sfocata. Spero che sia la ripresa dalle vacanze di Natale e che d'ora in poi la situazione migliori nettamente. Andiamo subito con la mia personalissima classifica, qui alla mia sinistra vedete alcune immagini trattate dalle preview americane, la storia in terza posizione, quella che mi è piaciuta di meno, è quella tratta da Cyborg numero 13, scritta da John Semper Junior per i disegni di Jefferson. Visivamente parlando, la serie è molto cartunosa e quindi si discosta un pochettino da quanto abbiamo visto nei capitoli precedenti, ed è un pochettino un peccato. Per il resto, Cyborg è tornato a Detroit dopo aver viaggiato nello spazio tempo per sei mesi, nessuno si è posto domande, la Justice League non è intervenuta, non ha fatto niente, quindi anche alla Justice League non interessa niente di uno dei membri che attualmente è tra i fondatori della Justice League New 52, perfetto così, ed è ritornato per affrontare Anomaly, questo avversario che sinceramente non mi sta dicendo molto. Dall'inizio della serie fondamentalmente non mi sta dicendo molto, è che in questo capitolo qui è molto di passaggio, molto di transizione per arrivare ad una conclusione che ci catapulta all'inizio di questo story arc, quindi di fatto abbiamo letto dei capitoli inutili, se non per introdurre un paio di personaggi secondari che daranno aiuto presumibilmente da adesso in poi a Cyborg a risolvere la sua questione con Anomaly. Non si poteva trovare un modo alternativo, farli incontrare prima e far arrivare a questo status quo Cyborg adesso, cioè senza fargli fare lo stesso status quo già prima di questo story arc, ecco, la cosa mi è sembrata pesante più che altro per questo. Una serie che non mi ha mai colpito, non mi ha mai detto molto, ma che continua a non essere nei canali di pesci. In seconda posizione, Earth 2 Society, giunto al diciannovesimo capitolo, scritto da Denabnet per i disegni di Redondo. Visivamente parlando, molto molto carina, molto molto gradevole, gli eroi di questa terra alternativa, chiamata Terra 2 per l'appunto, sono finiti in un'ulteriore terra alternativa, un pochettino contorta la cosa, comunque fondamentalmente nei numeri precedenti abbiamo visto come furia l'amazzone di questa squadra, di questa Justice League di Terra 2, abbia scopercato il vaso di Pandora, scopercando il vaso di Pandora, ha creato, secondo la sua mente, una realtà alternativa, sono finiti in questa realtà pian pianino, man mano che questa realtà diventava più consistente per loro, non abbiamo più visti nei primi due capitoli, la fase di transizione verso questa nuova terra, una nuova terra dove c'è qualcuno che li vuole catturare, li vuole fermare, i nostri devono un attimino capire cosa c'è di simile alla vecchia Terra 2 su cui loro vivevano prima che questa venisse distrutta, durante gli eventi, non mi ricordo se era Future Sand o Convergence, comunque alla fine di quegli eventi i nostri eroi non avevano più le terre, mi sa che era Future Sand, alla fine di Convergence avevano preso quella terra, un'altra terra come loro terra di riferimento, adesso probabilmente riusciranno a tornare su un'autentica Terra 2. Staremo a vedere, capitolo molto di transizione, abbiamo avuto modo di vedere all'opera alcuni personaggi secondari, poco noti, poco visibili, poco in vista nei capitoli precedenti, la cosa mi è piaciuta, però un pochettino all'acqua di rose. In prima posizione è rimasta solamente lei, la serie che ho sempre massacrato finora, Justice League, giunto al ventiquattresimo capitolo, che mi è piaciuto tanto perché è un capitolo non scritto da Brian Itch, ma da Dan Abnett, disegnata da Churchill. Visivamente parlandolo, state vedendo, a me è piaciuta tantissimo, dal punto di vista della trama, è una trama molto semplice, che si ricollega allo status quo attualmente in atto su Aquaman, scritta sempre da Dan Abnett, quindi è lo stesso autore, quindi che cosa è successo? Qui faccio un lieve, lieve, lieve spoiler ai numeri 25 e 26 di Flash, quindi anche al 26, però molto molto lieve. Che cosa è successo? Aquaman è stato sconfitto, è stato deposto dal trono di Atlantide, c'è finito un altro Atlantideo, Mera, molto triste, affranta per la morte del suo futuro marito, si era rifugiata sulla Terra, è venuta a sapere da Vulco che ha come forse ancora vivo, e quindi Mera vuole ritornare ad Atlantide, vuole ritornare ad Atlantide, ma per farlo dovrà infrangere una sfera, una cupola di energia eretta, chiamata la corona di spine, eretta tramite un antico incantesimo Atlantideo, e in questo capitolo qui la vedremo stremata dopo tre giorni, che continua a cercare di abbattere questa barriera qui, provocare mareggiate e maremoti, tant'è che la Justice League si sente in dovere di intervenire. Interviene per scoprire che cosa stia succedendo e scopre che artefice di tutto è Mera, e dovrà affrontarla. Una serie di splash page molto ben riuscite, molto bello graficamente questo capitolo, che funge proprio da contatto ad Aquaman e che dà modo a Mera di vederla finalmente all'opera contro tutta la Justice League, e la cosa mi ha proprio gasata, è un capitolo di puro combattimento nel pieno stile di supereroi, molto molto semplice ma molto molto gradevole contestualmente. Nel finale abbiamo anche una sorpresa che la copertina un pochettino in una qualche maniera sembra anticiparci, e vedremo nei prossimi numeri se si realizzerà o meno questo nuovo status quo, oppure no. La cosa sarebbe comunque gradevole e carina, vedremo each cosa ha in mente per questa serie nei prossimi numeri. Questo è quanto avevo da dire per oggi. Qui sotto, nello spazio dei commenti di YouTube o di dove vedrete questo video, scrivete pure la vostra, fatevi sentire, ditemi che cosa ne avete pensato di queste storie, se state seguendo Justice League o meno, o queste serie a cui vi piacciono o non vi piacciono. Mettete mi piace al video se vi è piaciuto, non mi piace se non vi è piaciuto, scrivetevi sotto nei commenti sempre perché non vi è piaciuto, condividete, fate conoscere la soffitta di camera mia non più in soffitta, e noi ci vediamo ad una prossima video opinione del canale. Ciao!